Come promesso, Ricky sta preparando il famoso panino, anzi i panini con la presaola, ma proprio così. Allora, prima di tutto grazie, grazie davvero di cuore per tutti i vostri messaggi. Purtroppo oggi diciamo che non sono riuscita a ringraziarvi e a leggervi anche su Whatsapp, perdonatemi a tutti gli amici che mi hanno scritto, prometto che nei prossimi giorni mi impegnerò a rispondere a tutti, però devo dire che con il piccolo Enea si ha un bel da fare, mi tiene quell'attimino impegnata, soprattutto in queste prime ore, in questi primi giorni. Poi stanotte non sono riuscita a dormire, avevo l'occhio pallato, fisso su di lui, con l'adrenalina post-parto ancora che circolava, quindi sì, oggi sono abbastanza stanca e provata e forse ho anche un po' bisogno di dormire, però ho una felicità pazzesca.